Sono oltre 30 i precedenti tra Foggia e Taranto allo Zaccheria. Il derby da uno ionico è uno dei più sentiti della regione, nonché il più disputato. Andando indietro nel tempo, prima della fondazione dell'associazione sportiva Taranto, il Foggia disputava derby con altre formazioni locali, come ad esempio la Pro Italia. Il primo confronto tra le due compagini si giocò in prima divisione, il 16 ottobre 1927, a Foggia, e vide i rossoneri vincere sul Taranto per 1-0. Da lì i due club si sfidarono anche in Serie B, Serie C, Serie C1 e Serie C2. L'ultimo precedente risale alla stagione 2016-2017. Il manto erboso dello stadio Zaccheria, probabilmente Mr. Corda riproporrà la stessa formazione vista con il Cerignola, tranne qualche piccola modifica. Non dovrebbero essere della gara Salines, è in fase di recupero dopo la botta presa in Coppa Italia, e poi Capitan Gentile, uscito zoppicante dal rettangolo verde dello stadio Monterisi. Intanto è arrivato il verdetto ufficiale sulla possibilità di vedere i tifosi tarantini allo Zac. Nulla da fare, le autorità foggiane hanno preferito vietare la trasferta ai supporters ionici. Questo incontro da qualche anno viene giocato senza la tifoseria ospite, a causa di molti problemi con i tifosi, ed addirittura il 26 maggio 1991 in Serie B la partita fu disputata sul campo neutro di Benevento. Con 5 partite giocate, un assist siglato e 188 cm a disposizione di Mr. Corda, Francesco Viscomi è senza dubbio tra i migliori del Foggia targato Felleka. L'ex difensore centrale del Cesena ha da subito mostrato le sue qualità, tanto da diventare tra i migliori in campo contro l'audace Cerignola. Lo spavento preso con il Gravina è solo un dettaglio, ora il classe 91 di Domodossola ha solo un obiettivo in testa, raggiungere i professionisti con i rossoniri. Ieri ha parlato alla stampa, in conclusione andiamo ad ascoltare un estratto della conferenza. Taranto si, è una squadra molto attrezzata come lo era il Cerignola, una squadra che arriverà sicuramente avvelenata perché ha la seconda partita persa in casa, è una squadra che ha delle individualità molto importanti soprattutto davanti. Cosa dovremo fare in più? Nulla, noi la domenica dovremo raccogliere i frutti dei sacrifici che facciamo tutti i giorni perché io sfido chiunque ad allenarsi come ci alleniamo noi, al sacrificio che ci chiede il mister tutti i giorni, alla voglia di lottare che ognuno di noi ci mette tutti i giorni per conquistare la casacca e noi non dobbiamo farne più nemmeno se non allenarci sempre a 3.000 all'ora come facciamo e far sì che ci sono ancora altri due allenamenti da fare alla grande con la mentalità giusta, col sacrificio giusto e noi ci faremo trovare pronti. Poi il discorso tattico, come ho detto prima, è un discorso dopo che viene secondo me dopo tutte queste cose, una volta che hai la mentalità, la cattiveria e tu sei pronto effettivamente puoi giocare contro chiunque e a noi non ci deve far paura nessuno perché noi siamo il Foggia, però non devono mancare queste cose qua che le coltiviamo durante la settimana, la domenica è il frutto della settimana, poi a livello tattico dobbiamo crescere ancora in maniera esponenziale, quello pian piano ce la metteremo tutta.